Sorge di nuovo il sole sulla città. È l'ora di andare in ufficio. Ogni giorno miliardi di persone lavorano in edifici che consumano enormi quantità di energia. Oggi però, grazie alla tecnologia Glass to Power, i moderni palazzi a vetri possono essere resi energeticamente indipendenti e produrre tutta l'energia di cui hanno bisogno. Vediamo nel dettaglio. All'interno di ciascuna vetrata è stato inserito un pannello di plastica. Questo però non è un pannello di plastica normale. Al suo interno sono disperse delle nanoparticelle invisibili della dimensione di un milionesimo di millimetro. La luce del sole è assorbita dalle nanoparticelle che la trasformano in un fascio di luce infrarossa intrappolata nel pannello. Il raggio infrarosso è riflesso all'interno del pannello fino a raggiungerne il bordo esterno. Qui sono posizionate piccole celle fotovoltaiche al silicio che lo trasformano in elettricità, la quale è immessa nella rete del palazzo tramite un normale circuito elettrico. L'energia elettrica può essere quindi immagazzinata in un sistema di accumulo o utilizzata immediatamente per alimentare sistemi di illuminazione, condizionatori, ascensori e in generale ogni dispositivo che abbia necessità di alimentazione elettrica. In questo modo, semplicemente sfruttando l'energia prodotta dalle sue vetrate, l'edificio può funzionare in completa autonomia energetica, sia di giorno che di notte. Il mercato degli Zero Energy Buildings è enorme ed in rapidissima espansione. Solo in Europa si contano oltre un miliardo di metri quadri di vetrate continue in palazzi, uffici e centri commerciali. Per limitare gli effetti del riscaldamento globale del pianeta, sia in Europa che nel resto del mondo, stanno entrando in vigore normative che impongono in tempi brevissimi, a tutti i nuovi edifici, di essere Newly Zero Energy. La tecnologia Glass to Power è l'unica in grado di raggiungere questo obiettivo senza deteriorare l'estetica delle vetrate trasparenti, garantendo ritorni di investimento in tempi brevi grazie alla sua elevata efficienza energetica. Glass to Power. L'energia invisibile.